La votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 418, astenuti 7, maggioranza 210, favori 260, contrari 158, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16 con il seguito della discussione della proposta di legge del Cante Modifiche dell'articolo 406 terzo del Codice Penale in materia di scambio elettorale e politico mafioso. La seduta è sospesa.